Ragazzi, buona serata a tutti, buona serata a tutti, abbiamo vinto contro l'Inter, abbiamo vinto contro l'Inter, sono contentissimo, per carità, anche se è solo Coppa Italia, anche se sapete benissimo che, vabbè, sono contentissimo, però dobbiamo dire che non sappiamo neanche noi come cazzo abbiamo vinto, cioè non so se l'abbiamo vinta noi o l'hanno persa loro. Bisogna anche essere sinceri, poi l'arbitraggio ragazzi, una roba alucinante, l'arbitraggio, è una merda l'arbitraggio, è stata una merda, poi qui veramente abbiamo degli arbitri di merda, poi adesso stanno inquadrato questo merdoso di Rabiot che non sa neanche lui perché gioca a calcio, perché giochi a calcio. Se noi abbiamo vinto una partita, abbiamo metà squadra da 4 praticamente, non da 4 però non sufficiente, cioè ragazzi, ci rendiamo conto, abbiamo visto dei passaggi, errori tecnici, sbagli, errori mentali, proprio blackout mentali, cose... Nel secondo tempo abbiamo fatto un tiro, se non sbaglio, solo con Bernardeschi, abbiamo tirato che, per me Bernardeschi, a parte un inizio di merda, errori tecnici, ok, però nel secondo tempo, secondo me, soprattutto, è stato uno dei migliori, ok? Uno dei migliori, comunque da 6, cioè giusto per dirvi e per farvi capire la qualità della nostra partita oggi. Poi, i tre episodi che hanno deciso la partita, errore, Alexandro, De Miral che non sapevo, cioè non so perché era così posizionato di merda, Delete e secondo me anche il posizionamento di Buffon perché il miglior Buffon quella palla l'avrebbe parata. Poi ha fatto un altro miracolo, ha sbagliato altre due volte su passaggi, su altre cose, quindi io non so se... poi lascerò le pazzelle, non so neanche se dargli la sufficienza. Certo, quel salvataggio ci ha salvato il culo, come ci ha salvato il culo De Miral, oggi la coppia di difensiva non mi è piaciuta, Delete male, in ritardo, ma qua bisogna anche dire, tonato dal Covid, a sinistra gioca male, poi ha giocato poche volte insieme a De Miral e quindi ha un po' di attenuanti, questo po' come sicuro. Poi chi è entrato dopo non è che mi sia anche Morata, Morata per carità critiche, offese, va benissimo perché poi ovviamente le cose non si sanno, ieri sentendo anche la live di Romeo Agresti, so e lui ha detto che Morata viene preservato perché comunque sta giocando con, oltre all'infortunio che ha avuto, con delle botte rimediate nelle partite successive all'infortunio, successiva rientro, con tacchettate e quant'altro, che insomma al piede proprio non sta bene, infatti si vede comunque che non corre come prima dell'infortunio che poi l'ha tenuto fuori fino a metà gennaio. Quindi non è un attenuante, però di fatto lo è, nel senso che comunque è entrato male, ha sbagliato tanto a livello tecnico, siamo tutti d'accordo, però bisogna dire che comunque ha anche lui i suoi problemi, come li ha avuti Ronaldo, Ronaldo prima del gol del rigore non è che avesse fatto chissà che cosa, ha fatto poi il secondo gol su una stronzata loro perché poi ha sbagliato anche il tiro, è andato dentro, però lì ha sbagliato perché insomma se tu azzecchi il tiro, cioè se tu tiri bene il pallone va centralmente in porta, non va sul pallone e poi va in gol. Comunque al di là di questo, lì proprio la stronzata di bastoni, quindi due stronzate, il rigore era netto, avevo qualche dubbio sul discorso di come l'avesse visto, però poi ci sono stati dei frame, dei video diciamo con lo zoom, si vede proprio la trattenuta sul braccio, quindi il rigore era netto, c'era probabilmente anche una doppia munizione non data a Vidal per farlo tattico sul quadrado se non sbaglio, quadrado oggi ha giocato male, perché quando io dico che è ignorante calceticamente si può dire che corre tanto, però poi ha sbagliato tanti contropiedi, tanti, Kulusevski male anche lui oggi, anche lui l'ultima scelta la sbagliava, cazzo nel secondo tempo devi fare una cosa, ripartire perché tu giocavi così, hai sbagliato tantissime ripartenze, non mi è piaciuto Pirlo, al di là di tutto che la formazione che ha messo e secondo me l'ha messa perché sapeva benissimo che quest'anno, sa benissimo che quest'anno ci giocheremo il quarto posto più che lo scudetto, quindi la partita più importante è contro la Roma e sarà contro il Napoli, più che la doppia semifinale, quindi ha vinto una partita che neanche lui sa come, praticamente, e poi quando ha messo il 5-3-2 finale a me non è piaciuto, cioè lì quando lui parla di mentalità europea, gioco europeo, ma deve esserci anche questa europea, cioè lì capisco non hai i cambi quant'altro, però metti la difesa a 5, io, ragazzi, queste critiche le facevamo anche ad Allegri, tu metti una difesa a 5, tu ti chiudi, dai un segnale negativo ai tuoi, perché dici dobbiamo chiuderci e non ripartiamo più praticamente, cioè poi per carità mancavano 5 minuti, quello che vogliamo, però se poi in quei 5 minuti perché ti abbassi ancora di più rispetto a quello che hai fatto tutto il secondo tempo, poi pigli il gol, lo pigli nel culo e ti pigli anche le critiche, che poi Pirlo ha tutte le attenuanti che volete, che vogliamo, che dico sempre, quindi io non me la piglio con Pirlo, però deve capire che per migliorare, per avere una certa mentalità anche a livello europeo, non basta un certo tipo di gioco che con certi giocatori abbiamo visto, no, con Rabiot non puoi fare, non puoi fare al di là che è una merda come giocatore, ma non puoi fare, e Artur è entrato così così perché ha fatto delle buone cose, però ha sbagliato anche alcuni passaggi, però sicuramente protegge bene il pallone, però ragazzi, proteggere bene il pallone va benissimo, non ti fa perdere il pallone, però se poi non dai un qualcosa in più lì davanti, poco cambia, infatti ripeto, adesso sono questi i centrocampisti che abbiamo, ripeto, i centrocampisti che abbiamo titolari devono essere McKennie, Bentancur e Artur, perché Bentancur ha sbagliato, ha rischiato di farci prendere il gol, ed è vero, però non è un caso che se ha Rabiot di fianco, è un McKennie non al 100%, perché anche lui ha fatto una prestazione insufficiente a dirà che corre sempre, però anche Bentancur va in difficoltà, ok, anche perché lui ha pressato molto, ed è per questo che dicevo che comunque questa partita se è stata proprio per Artur, perché comunque a dirà che Rabiot è appunto una merda, sul pressing interista avrebbe comunque fatto uscire meglio, magari, e protetto meglio il pallone rispetto a Rabiot ovviamente che non sa fare. Poi per il resto, cioè nel primo tempo, prima del 2-1 nostro, non è che avessimo fatto chissà che cosa, perché qualcuno dice sì, ma l'Inter aveva fatto un tiro in porta, e aveva fatto il gol, sì, ma noi prima del rigore nostro, noi avevamo fatto un tiro, giusto per dirvi, quindi, sì, fraseggio, però gli ultimi 20 metri non c'era movimento senza palla, non c'era, non c'è concretezza lì davanti, poi ripeto, Morata ha questo problema, e questo dimostra ancora di più che Kuluseski non può fare l'attaccante, perché Kuluseski, abbiamo visto, lui parte, deve partire da esterno, da dietro, non può fare la prima punta, non può fare il lavoro che fa Morata, quando è in forma, perché Morata evidentemente non è in forma in questo momento, e serviva un attaccante gratis, a zero, per sei mesi, quello che vuoi, serviva un attaccante che facesse quel lavoro, un Diego Costa, un chi cazzo volete voi, va bene, serviva un attaccante del genere. Non l'hai preso, non si può dire che siamo competitivi su tutto, perché oggi hai vinto 1-2, siamo tutti d'accordo, ma non sai nemmeno te come, che tra l'altro, al di là che dopo la formazione eletta non ero così ottimista, però due o tre giorni fa avevo detto che per me oggi avremo vinto a Milano, con una certa formazione, bisogna dire che oggi, poi come è andata, abbiamo vinto, ok, però bisogna dire che, ripeto, non sappiamo nemmeno noi come, non sappiamo nemmeno noi come, quindi, questo è il quanto ragazzi, io sono contentissimo della vittoria, sicuramente la Coppa Italia è comunque una coppa che per me rimane, cioè Champions League, campionato, Coppa Italia, questa è la mia classifica, e quindi, come ho detto prima della partita, qualora uscissimo non farei drammi, però questa, al di là di come andrà il ritorno, è una vittoria più che altro importante per la testa dei giocatori, dopo il 2-0, senza praticamente tirare in porta contro di loro in campionato, anche se è arrivata così, va benissimo, cioè non va benissimo perché bisogna migliorare le prestazioni, però, questo dimostra che quando tu metti certi giocatori al posto dei titolari, cambia tutto, giochi male, prestazioni di merda, e questo significa che la rosa Juventus non è così lunga, perché oggi, ripeto, hai vinto con questi giocatori, però se tu guardi, al di là di Bernardeschi che ha fatto benino, faccia sinistra con Alexandro e Rabiot, pessima, Quadrado oggi male, che è uno dei titolari, Krusevski pure lui male, Ronaldo, al di là della doppietta, non è che avesse fatto chissà che cosa, poi, vabbè, gli dai merito della doppietta, che ti ha deciso la partita, quello vuoi dirgli, no? Però, al di là di quello, Ronaldo è uscito, e quello che mi è piaciuto è che è rimasto lì in città e la squadra, nonostante fosse uscito, non contento, ma ci sta, deve capire che se lui vuole tornare, cioè vuole essere il più in forma possibile quando le partite conteranno, quindi in Champions League, deve essere preservato, non può giocare tutti i minuti di tutte le partite, deve avere l'intelligenza di capire questo, punto. Detto questo, ragazzi, vi rimando alle pagelle che lascerò sotto, buona serata a tutti, sempre e comunque fino a fine Forza Juventus, e ci vediamo ovviamente al prossimo video.